Sabato 14, domenica 15 settembre, Trieste e Piazza Unità d'Italia ospiteranno un grande appuntamento di basket con la tappa finale dell'NBA 3 per tour, il Rodeo 3 contro 2, che quest'anno porterà in città il grande nome del basket internazionale, la stella dell'NBA, Robert Parrish per quattro volte campione NBA, tre con i Boston e una con i Chicago, per rendere ancora più unica l'ultima tappa. L'NBA ha messo in palio un premio da sogno per i vincitori della tappa triestina della categoria Andr-16, un viaggio in New Orleans per partecipare allo Stars Game del 2014, un'opportunità unica che certamente farà salire ancora il numero di squadre iscritte al torneo che al momento sono un centinaio, team provenienti da Veneto, Trentino, Alto Adige, Emilia-Romagna, Campania, addirittura Germania. Pramosso da NBA, Turismo Frulli Venezia Giulia e alla collaborazione delle comuni di Trieste, l'evento è stato presentato in essere aggiunto dal sindaco Roberto Cosolini, il vicepresidente NBA in Europe, Benjamin Morel e Alessandro Gaetano, direttore marketing di Turismo FWG. E' una grande e bella opportunità per Trieste, ha detto Cosolini, ringraziando Turismo FWG e NBA per aver scelto la città, capoluogo del Frulli Venezia Giulio, per questo evento finale e non mancando di confessare di essere un vecchio tifoso delle Boston Celtics. Per quel che riguarda l'appuntamento, l'NBA 3X inizierà sabato a partire dagli 13 e oltre alle tre partite 3 contro 3, Turismo FWG ed NBA hanno organizzato un calendario di attività aperte a tutti che permetteranno agli appassionati di vivere una vera esperienza dell'NBA. Le attività di intrattenimento per i fans che seguiranno l'evento comprendono tra le altre la Slam Can di Turismo FWG, dove gli appassionati potranno essere immortalati in una foto panoramica a 360 gradi delle loro schiacciate. Inoltre, NBA 3X in Italia ha visto la partecipazione di oltre 1.500 partecipanti e più di 100.000 visitatori. L'evento si è svolto in 14 paesi all'infuori degli Stati Uniti, con paesi tagliati Francia, Portogallo, Spagna, Turchia e Gran Bretagna.